L'edizione del Mittelfest di quest'anno sarà un'edizione speciale perché ha l'insegna di un rilancio, di un grande cambiamento in termini di qualità, ma anche per ritornare a quella che era l'anima originaria del Mittelfest quando nel 91 questo strumento culturale è stato pensato in funzione proprio di una nuova Europa, di un'Europa unità fondata sui suoi valori migliori, quelli di carattere democratico, dei diritti umani, valori sociali, etici e valori anche di tipo culturale e artistico. Vogliamo far fronte alla crisi profonda che oggi attraversa il continente europeo proprio con delle proposte di significato, di nuovo orizzonte attraverso proprio soprattutto l'arte e la cultura. Questo Mittelfest sarà dedicato al tema dei millennials, ai giovani, a quelli che sono nati tra la fine del Novecento e gli inizi del 2000. Vogliamo affidare a loro proprio l'immaginazione per un'Europa che riesca a uscire dal tunnel attuale e noi speriamo che anche attraverso i giovani riusciamo a seminare speranza per una nuova Europa.